Amici di Telea1, ben trovati con un nuovo appuntamento con il nostro consueto spazio approfondimento informativo afferente alle tematiche e le problematiche che interessano il territorio della Sibaritide e in particolar modo la città di Corigliano Rossano. Il nostro gradito ospite della puntata odierna è l'ingegnere Flavio Stassi, sindaco appunto della città di Corigliano Rossano, che ringraziamo per la presenza e la disponibilità. Buonasera, grazie a voi. Sindaco, noi ci ritroviamo a distanza di poco più di una settimana da quella che è stata la nostra prima intervista e anzitutto voglio segnalarle con estremo favore un dato che abbiamo riscontrato sia personalmente che come emittente. Abbiamo registrato numerosi pareri, numerosi riscontri, a prescindere dalla condivisione o meno di quelle che possono essere le posizioni del sindaco, le appartenenze politiche eventuali, sul fatto che ci sia stato anche un ulteriore momento di incontro e confronto col sindaco della città perché appunto si avverte molto questa esigenza di comunicare. Lei lo fa con cadenza quasi quotidiana anche tramite i social, oltre i canali di comunicazione istituzionale, però magari quel mezzo televisivo continua sempre a mantenere, ad avere un suo fascino e soprattutto anche a raggiungere una fascia di persone che magari sono meno avvezze ai social e più magari anche per una questione anagrafica o per tradizione a preferire il vecchio strumento diciamo televisivo che poi così obsoleto non è ma dimostrato, che raggiunge invece ambi strati della popolazione e quindi mai come in questa fase soprattutto è moderno ed utile. Quindi anzitutto grazie per quest'ulteriore occasione di confronto. Prima di addendrarci nella questione sanitaria che naturalmente predomina ancora una volta la la questione, ecco, la scena politica istituzionale alla luce dell'emergenza epidemiologica che stiamo vivendo, volevo porre subito l'accento su un'altra calamità di altro genere naturale che si è verificata nel fine settimana appena trascorso e che ha colpito il crotonese ma anche appunto la nostra zona di Corigliano Rossano. Numerosi disagi e tuttora alcuni molti dei quali ancora visibili sia per quanto riguarda l'area urbana di Rossano che l'area urbana di Corigliano. Cosa è stato fatto? Ne sappiamo che l'amministrazione comunale anche lei stesso si è recato personalmente in molte di queste zone, ha messo in campo una serie di strumenti anche per tutelare quella appunto che è un bene storico di primaria importanza come la chiesa di San Marco di Rossano, con l'ausilio della protezione civile delle forze dell'ordine per mettere anche in sicurezza e trovare anche un alloggio sia ad alcune famiglie di schiavonea che anche un gruppo di cittadini stranieri che addirittura hanno anche rischiato la vita, insomma una serie di operazioni. Ecco può delucidarci su questi appunto che sono i primi interventi e soprattutto anche su quelli posti in essere dall'amministrazione per alleviare i disagi a fronte di queste difficoltà? Ci siamo trovati di fronte a uno scenario purtroppo assolutamente sgradevole, soprattutto la zona di schiavonea in alcuni momenti è stata allagata, insomma le immagini sono chiarissime, ci siamo recati con difficoltà mentre questo accadeva addirittura con i mezzi della protezione civile, abbiamo provato già in quel frangente a cercare di dare supporto, è un fatto questo che deve essere assolutamente risolto perché guardate la questione della gestione delle acque e anche dell'entrata del mare perché in questo caso il problema non è stata la pioggia, ma è stato il mare che ha assolutamente superato quella che è la barriera naturale della spiaggia e che purtroppo poi si è riversata tutta quanta nel nostro centro abitato di schiavonea. Lì per lì abbiamo fatto anche degli interventi d'emergenza, abbiamo chiuso i varchi proprio durante, mentre tutto questo accadeva, abbiamo cominciato a chiudere i varchi attraverso i quali si infiltrava l'acqua del mare per fare in modo che le pompe idrovore, anzi la pompa idrovora, perché purtroppo probabilmente un cattivo dimensionamento della rete di raccolta delle acque o della vasca di raccolta non consente l'utilizzo di entrambe le pompe idrovore che sono piazzate sul lungomare di schiavonea, già oggi insieme all'ingegnere Castiglione, dirigente della protezione civile, abbiamo ragionato su come ovviare a questo problema, questo non è sicuramente un problema che risolveremo in due giorni, ma non è un problema che vogliamo rimandare diciamo a lungo, non vogliamo nuovamente episodi di questo tipo o quantomeno vogliamo essere sicuri che sia stato fatto tutto il necessario, poi a determinate calamità quando scendono così tanti centimetri di acqua e quando il mare è così forte, perché il problema è stato il mare, probabilmente bisogna in ogni caso fare i conti con dei disagi, però quantomeno vorrei essere sicuro che abbiamo fatto tutto quanto il necessario. Subito dopo, come dire, nel momento in cui abbiamo cominciato a, si è cominciato un po' ad assestare la situazione con la protezione civile, con tutti i volontari, abbiamo provato a dare un po' di supporto a molta gente, qualcuno servivano come dire dei beni di prima necessità, altri avevano bisogno di sacchi per poter porre in sicurezza le proprie abitazioni. In tutto questo ci sono stati anche dei casi abbastanza difficili, dei ragazzi che erano probabilmente, dormivano probabilmente in luoghi poco sicuri, hanno rischiato di essere travolti dal mare, alcune famiglie anche al centro storico, devo dire proprio oggi siamo intervenuti nei pressi di un'abitazione del centro storico, là dove c'è un viadotto che l'acqua ha reso insicuro, quindi probabilmente domani abbiamo bisogno di montare lì subito un'impalcatura per mettere al riparo queste famiglie. Insomma ci sono un po' di disagi, ci sono stati soprattutto nella zona di Schiavonea una serie di disagi, c'è stata anche la questione del monumento del San Marco, siamo intervenuti subito con i carabinieri, con la sovrintendenza, siamo stati inseriti nell'unità di crisi per i beni culturali insieme a Crotone per quanto riguarda, quindi interverremo sul San Marco ma probabilmente anche su altri beni culturali della nostra città, l'abbiamo chiesto e l'abbiamo ottenuto questo perché riteniamo che sia importante anche tutelare i beni culturali, insomma c'è tanto da fare, sicuramente già oggi le ruspe hanno iniziato a pulire il lungomare, sono partite da Pierromalena e man mano andranno verso il missionante, soprattutto in quella zona lì dove ancora c'è tanto fango, oggi ho fatto un sopralluogo, ho chiesto un impegno straordinario anche all'azienda di raccolta rifiuti perché ovviamente sono tanti rifiuti che sono stati sparsi lungo tutto il borgo marinaro, per cui insomma i lavori di messa in sicurezza e di pulizia sono già iniziati praticamente da ieri e questo richiederà un impegno straordinario, nel frattempo c'è da mettere in sicurezza anche le strade, c'è da mettere in sicurezza gli impianti semaforici, c'è da verificare il corretto dimensionamento della raccolta delle acque, anche questo per evitare che queste cose accadano in futuro, abbiamo già immaginato un sistema di paratie per evitare che insomma il mare continui con facilità ad andare a invadere il lungomare, via Cristoforo Colombo, c'è tanto da fare, i disagi per tante famiglie sono stati tanti, noi stiamo provando in tutti i modi ovviamente a cercare di mitigarli e poi la missione principale è quella che questi disagi magari, ripeto, al di là poi delle calamità, al di là degli eventi atmosferici straordinari, quelli quantomeno che la città faccia il massimo per evitare che ci siano e quantomeno per mitigarli. Sindaco, lei faceva appunto questa constatazione, appunto un primo rendiconto alla luce della conta dei danni che è stata effettuata dall'amministrazione comunale, facevamo riferimento anche ai disagi di via Cittadella, a Schiavonea, al centro storico di Rossano a cui lei faceva poc'anzi riferimento e faceva anche riferimento alla situazione appunto anche delle strade. A tal proposito io voglio segnalarle e chiederle un'informazione con una velocizzazione che io penso che sia doveroso dare ai cittadini. Lei nella scorsa puntata ha fatto le stesse riferimento al ripristino del manto stradale alla luce anche del bilancio approvato. Io segnalo che è in atto, già è stato effettuato in diverse zone dello scalo, un ripristino dello stato dei luoghi intimato dall'amministrazione comunale alle ditte che hanno effettuato dei lavori. Era stato un annuncio fatto dall'amministrazione comunale che noi stessi abbiamo constatato in molte zone, io penso ad esempio anche allo scalo nel tratto che porta anche a via Fontanelle che è una delle arterie stradali più trafficate. esattamente può approfondire questo aspetto che è un aspetto che sta molto al cuore e che inizia finalmente a tracciare un aspetto positivo legato al mando stradale che abbiamo già evidenziato nella scorsa puntata è una delle più grosse problematiche per pedoni e automobilisti. È un problema enorme, peraltro causa al Comune anche un grosso contenzioso perché ci avviamo per esempio a votare l'assestamento di bilancio, noi abbiamo fatto una pulizia dei debiti di bilancio di molti anni nel corso dello scorso esercizio, quest'anno quei pochi debiti fuori bilancio che ci apprestiamo a votare sono poi guarda caso quasi tutti dovuti a controversie da insidia stradale diciamo, per cui a molteplici aspetti questa cosa. Intanto la questione dei ripristini, fin da quando ci siamo insediati ci sono state sottoposte su una serie di pratiche, sia da parte di operatori telefonici che da parte di operatori dell'energia elettrica, una serie di pratiche per una serie di lavori che avrebbero intaccato diciamo la nostra rete stradale, già di per sé estremamente, come dire, ereditata in maniera estremamente, chiamiamola così, difficoltosa, per non dire fatiscente. Abbiamo approfondito un po', abbiamo ottenuto, come dire, l'avvio di una fase diversa in cui le aziende devono ripristinare almeno tre metri del manto stradale. Questo ovviamente in qualche azienda ha causato un po' di malumori, in ogni caso così è stata fatta, è stata firmata diciamo l'autorizzazione. Probabilmente qualcuno ha pensato che questi ripristini potessero essere fatti con i tempi, come dire, con tempi biblici, noi ci siamo permessi, anche perché è stato sottolineato da molti cittadini il fatto che questi ripristini, questa assenza di ripristini causava molti disagi, peraltro a un certo punto non era fatto neanche una specie di assestamento col cemento come va fatto, ma veniva lasciata addirittura alla terra, per cui ci siamo permessi di fidare adesso si avvia questa fase. Sono tante le vie della città, praticamente da Villaggio Frassa si arriva fino a Schiavonea, altri tratti sono sulla stessa via Cristoforo Colombo, ci sono tanti tratti della città che saranno interessati da questi lavori, in particolare dell'Enel e che saranno peripristinati con questi tre metri di carreggiata, per cui avremo anche un ristoro da questo punto di vista dei disagi. Nel frattempo ci sono una serie di punti che vanno messi in sicurezza proprio a seguito degli eventi atmosferici di questo fine settimana. Penso alle tante traverse del Borgo Marinaro, il cui oppure anche oltre il Borgo Marinaro, penso alla zona di Giannone, Contra Dacoscia, che sono state ulteriormente danneggiate dal punto di vista del manto stradale, che procederemo a ripristinare immediatamente, ci servono soltanto i tempi tecnici, stiamo semplicemente facendo adesso rendiconto di quelli che sono i punti da mettere in sicurezza, alcuni punti anche sulla provinciale, su Santa Lucia, sulla stessa 106 alla Rotonda del Frasso, nei pressi di Viale Sant'Angelo, ci sono una serie di punti, li stiamo mettendo tutti quanti uno dopo l'altro e dopodiché questi li ripristineremo o meglio faremo una messa in sicurezza rispetto a questi punti. Dopodiché abbiamo già in campo una gara da, credo sia finita, non so a che punto è, ma era già in fase di espletamento qualche giorno fa, per andare a incidere su alcuni tratti stradali. Stiamo interessando la strada del Macello, che è una strada molto importante per cercare di sgravare soprattutto le vie principali dello scalo di Corigliano, lì manca la raccolta delle acque, stiamo attenzionando il tratto tra Pirromalena e Fabrizio, lì manca la raccolta delle acque, perché vedete l'asfalto alle volte è soltanto il terminale, cioè la cattiva manutenzione stradale, alle volte è soltanto un pezzo del problema, molto spesso manca la raccolta delle acque. Noi contiamo anche in questa fase di avviare il progetto per la raccolta delle acque, per il ripristino della strada del Macello, per la strada di Pirromalena, dopodiché, come ho detto l'altra volta, serve un piano straordinario. Per il piano straordinario servono fondi straordinari, per i fondi straordinari servirà probabilmente un mutuo e quindi questo è un lavoro poi che ovviamente vedrà la luce nella prossima primavera, perché ovviamente un piano straordinario per la manutenzione stradale deve avvenire con la bella stagione. Adesso ci militeremo, ci limiteremo tra virgolette alla messa in sicurezza al ripristino alcune delle terre più importanti. Sindaco, lei faceva riferimento al ripristino appunto delle strade, faceva riferimento soprattutto alla messa in sicurezza di alcune zone, mi soviene una domanda inerente appunto alle strade, comunque il traffico cittadino, che so che immagino che sia un argomento che le sta particolarmente a cuore, quello della pubblica illuminazione, che vede il comune protagonista anche diciamo di una querelle, soprattutto tesa anche a superare le attuali criticità. Noi stesse nel sognalare anche alcuni problemi, io personalmente ho sollevato due situazioni a tutti i noti, sia quella del lungomare di Schiavonea, alle quali poi è stato posto rimedio, e di Contrada Cannata nella scuola elementare, che è una situazione che poi è stata affrontata dall'amministrazione registrando il giubilo e la soddisfazione di tanti genitori di ragazzi che erano preoccupati, però permane il problema dell'illuminazione, soprattutto ad esempio pensiamo in via nazionale di Corigliano Scalo. L'amministrazione è impegnata, abbiamo anche letto alcune croneche nelle settimane e nei mesi scorsi, in un cambio dello status quo. Qual è il messaggio che lei intende rivolgere ai cittadini nell'informare come appunto l'amministrazione comunale sta affrontando e cercando di superare anche le criticità presenti, perché molte zone, come l'Ebenza, continuano purtroppo a rimanere al buio, quindi alimentando ancora più un senso di insicurezza diffusa e di spettralità? No, ma noi ci troviamo costantemente a registrare purtroppo dei malfunzionamenti della pubblica illuminazione, lo abbiamo registrato fin dall'inizio, in realtà è fatto noto che era uno degli argomenti che avevamo attenzionato anche prima delle elezioni, per cui è una cosa di cui ci stiamo occupando da tempo. Come è noto dal punto di vista amministrativo abbiamo avviato un procedimento che è finito nelle aule giudiziarie, io non mi voglio esprimere ovviamente rispetto a queste questioni, quando ci sono le aule giudiziarie ovviamente dobbiamo aspettare, poi ovviamente rispettare gli esiti, una cosa è certa, quello che abbiamo registrato è che ci sono una serie di inefficienze che si registrano e che ci vengono segnalate, ci sono state segnalate per mesi quotidianamente dai cittadini e alle volte anche giustamente, legittimamente dagli organi di stampa, al momento si sta intervenendo, diciamo siamo in una fase in cui si sta intervenendo attraverso la presa in carico di alcuni punti e di alcuni pod, e laddove c'è da intervenire stiamo intervenendo appunto ripristinando la pubblica illuminazione. L'abbiamo fatto a Schiavonea, l'abbiamo fatto alla scuola di Cannato, l'abbiamo fatto anche in tanti altri punti, certamente va fatto un ragionamento generale rispetto alla gestione della pubblica illuminazione, noi stiamo attennendo con come dire serenità i giudizi dei giudici amministrativi, dopodiché ci determineremo, nel frattempo stiamo provando in questo contesto in cui purtroppo questo fa parte della pubblica amministrazione, anche noi ce ne siamo dovuti fare una ragione, avremmo voluto intervenire immediatamente rispetto a tutta una serie di problemi che abbiamo registrato e che ci sono, basti pensare anche più semplicemente agli impianti semaforici, ricordo quanto tempo ci è voluto per ripristinare l'impianto semaforico di Santa Lucia, erano i primi mesi dal nostro insediamento, per cui sollecitiamo quotidianamente rispetto a interventi verso la pubblica illuminazione. Molto spesso ci siamo trovati a dover scrivere che era necessario un intervento, in questa fase devo dire, proprio perché siamo in una fase a cavallo tra la gestione che noi abbiamo contestato dal punto di vista amministrativo e la sentenza, noi stiamo intervenendo adesso in maniera diretta, per cui tutte le segnalazioni le sta prendendo in carico il settore e stiamo provando a intervenire velocemente. C'è poi ragionamento da fare sulla efficienza dell'illuminazione nella nostra area di Corigliano, perché alcuni punti sono formalmente illuminati, formalmente anche efficientati, però in realtà sono bui, alcune zone di via Fontanelle, ma la stessa via provinciale, no, che peraltro è stata anche teatro di un brutto episodio, io trovo che l'illuminazione di un centro debba essere migliore, debba essere diversa, queste sono cose che vorremmo riversare in una gestione futura, ovviamente, ripeto, per il momento ci possiamo limitare alla manutenzione, al ripristino di laddove non funziona, in attesa poi, ripeto, con serenità di quelli che saranno gli esiti dal punto di vista giudiziario. Noi abbiamo fatto una scelta da questo punto di vista, abbiamo valutato che ci fossero le condizioni per, come dire, interrompere una gestione, è una scelta ovviamente amministrativa, ma ovviamente una scelta che è anche stata dettata da una volontà, perché ci siamo resi conto che quella gestione dal nostro punto di vista non andava bene, vedremo se le aule ci daranno ragione o ci daranno torso, continueremo comunque a cercare di migliorare il servizio laddove riteniamo che non stia funzionando. Sindaco, parlavamo della manutenzione delle strade, siamo partiti appunto parlando dalla constatazione di quelle appunto che sono la conta dei danni dei disagi del nubifraggio del fine settimana, la situazione delle strade, la situazione appunto della sicurezza del territorio con l'illuminazione, voglio collegarmi anche ad un'altra questione che riguarda l'ordinaria quotidianità, diciamo, della nostra comunità di Corigliano Rossano, la situazione dei rifiuti e la situazione, un'altra situazione, quella del randaggismo. Innanzitutto dobbiamo partire da una constatazione che penso che lei sarà d'accordo, molte volte si segnalano situazioni di disagi, ma molte volte sono ascrivibili spesso all'ingibiltà di taluni cittadini, che non rispettano, noi più volte anche l'abbiamo segnalato, a prescindere da quelle che possono essere le competenze e le responsabilità dell'amministrazione, non rispettano le più elementari regole del vivere civile, conferendo i rifiuti negli appositi contenitori, penso anche alle campane di vetro, rispettando appunto gli orari, rispettando quelle che sono le norme di buonsenso. Altre volte invece si segnalano di situazioni di disagio inerenti la raccolta, inerenti le poche unità lavorative sul territorio, spesso registriamo queste segnalazioni. Contemporaneamente sempre allo stato di salute del nostro territorio, una questione annessa anche a quello che riguarda la pulizia, la sicurezza delle nostre strade, io la voglio rivolgere legata alla questione del randagismo, argomento affrontato dall'amministrazione comunale. Quotidianamente, le dico la verità, anche noi, sia per il blog, sia come emittente televisiva, registriamo segnalazioni di cittadini che ci chiedono a malinguore come fare, perché appunto tutti quanti vogliamo bene i nostri amici a quattro zampe, però molte volte si registrano situazioni che offendono sia la, come possiamo dire, la dignità e la stessa salute di questi nostri amici e sia soprattutto, diciamo, anche mettono a volte in situazioni di scarsa sicurezza, creano legittima preoccupazione nella cittadinanza. Ecco, queste due questioni, rifiuti, quindi pulizia delle strade e randagismo. Ci sono novità da parte dell'amministrazione, comunale, per alleviare le difficoltà dei cittadini in Dal Senso. Allora, partiamo dalla questione di rifiuti. Noi veniamo da un anno in cui di fatto la certezza del conferimento è sparita. È sparita non per Corigliano Rossano, non per la fascia Ioni, che è sparita per l'intera regione Calabria. Il problema è che sono esauriti tutti i siti di smaltimento. Tra le ultime cose gestite in via d'emergenza dal Presidente Santelli c'è stata proprio questa difficilissima partita. Perché di fatto noi in questo momento stiamo smaltendo i nostri rifiuti quasi totalmente in un circuito di smaltimento fuori regione. Questo i nostri concittadini lo devono sapere perché è un circuito di smaltimento straordinario. È un circuito di smaltimento peraltro costoso per la regione Calabria. Ed è in atto una grande discussione fra gli ato che sono fatti dei sindaci e la regione Calabria per capire questo di più rispetto ai costi di smaltimento che chi lo deve pagare. Io ho detto ripetutamente nei mesi precedenti, fin da quando mi sono insediato. Guardate che il ciclo dei rifiuti calabrese non è insostenibile solo dal punto di vista tecnico, è insostenibile anche dal punto di vista economico. Perché non c'è nessun sindaco che andrà dai nostri concittadini a dirgli dopo mesi e mesi di emergenza guardate che la tari vi aumenta. Non c'è nessun sindaco in grado di far comprendere una cosa così folle ai nostri concittadini. Che io stesso non, come dire, faccio difficoltà a comprendere come faccio a farla contendere. Questo è il contesto. Siamo stati, credo, un mese a febbraio con zero conferimenti presso gli impianti di trattamento. Si è ripetuta la stessa questione intorno ad aprile e maggio, se non vado errato. E abbiamo, e da allora di fatto si prosegue a stento. Questo ha due conseguenze. La prima conseguenza è che il territorio è ulteriormente sporco. Spesso non è stata fatta la raccolta, fortunatamente in questo momento si riesce a fare, fortunatamente, ma un sistema estremamente precario, estremamente delicato. Spesso non si riesce a fare la raccolta, quindi i rifiuti si accumulano, poi qualcuno decide in maniera criminale di incendiarli, cose che purtroppo abbiamo visto, che abbiamo visto qui e abbiamo visto anche altrove. Non è sicuramente questa colpa dei cittadini, vi assicuro che non è neanche responsabilità dell'amministrazione comunale, perché peraltro noi nella nostra città possiamo vantare di avere l'unico impianto pubblico di trattamento nella provincia di Cosenza, per cui è una città, la nostra, che al ciclo dei rifiuti regionali dà. Ma c'è una seconda conseguenza. La seconda conseguenza è che saltano un po' tutti i circuiti della raccolta differenziata, saltano i circuiti del decoro urbano, si fa poi difficoltà a riprendere il ritmo ordinario nel momento in cui ci sono le cose. E noi questa cosa qui la stiamo subendo parecchio. Per cui approfitto della televisione per appellarmi ai nostri concittadini. La raccolta differenziata va fatta. Capisco che vedere alle volte i cumuli di rifiuti nonostante la raccolta differenziata sia scoraggiante, sia deprimente, faccia anche indignare. Ma la raccolta differenziata va fatta per due ragioni. In primis perché la raccolta differenziata ci fa risparmiare, far risparmiare l'ente e quindi far risparmiare tutti i cittadini. In secondo luogo perché la raccolta differenziata lenisce un problema, lo diminuisce, lo fa in modo che sia meno evidente. E questo è l'aspetto diciamo di gestione e l'aspetto dell'amministrazione. Poi c'è un altro aspetto che non riguarda i cittadini, riguarda gli incivili, che non sono i cittadini. Sono altri tipi di categorie. Sono quelli che pensano di vivere in un mondo a parte, pensano di vivere in un mondo a sé, che sanno che ci sono le isole ecologiche e invece gli ingombranti li lasciano sul marciapiede. Ma peraltro anche con una stupidità intrinseca. Io vedo alle volte gli ingombranti lasciati nei pressi, per esempio, di stradine nei torrenti, che sono più lontani dell'isola ecologica. Quindi ci sono persone così stupide, permettetemi il termine, che si caricano l'ingombrante al posto di portarla all'isola ecologica, dove non solo non sporcano, ma dove si differenzia. Perché nell'isola ecologica l'ingombrante viene valorizzato come differenziata. Ci aiuta anche, come dire, da questo punto di vista, allora invece lo lasciano vicino alla foce del torrente, vicino alla postazione o addirittura in pieno centro. Io devo dire anche una cosa. Ultimamente c'è un fenomeno di abbandono di ingombranti praticamente nel pieno centro. Questo alle volte a me mi sa quasi di sfida. Perché alle volte trovo veramente una quantità di materassi nell'ultimo anno. Io penso che siano stati rinnovati tutti i materassi delle nostre case. Io di questo sono assolutamente felicissimo, solo che i materassi dovrebbero essere portati tranquillamente, serenamente, nell'isola ecologica. Ma questo, qua non stiamo parlando di cittadini. Questi sono al di fuori del gruppo dei nostri cittadini. Questa è gente assolutamente incivile. Mi rendo conto, ripeto, che ci sono delle difficoltà. Io spesso mi sento dire ai cittadini, sindaco, vedi come c'è sporco. Poi non chiedeteci latari, no? Come se fosse bel. È assolutamente brutto, come dire latari. I rifiuti sono un circuito chiuso. Quello che si spende si deve, in un certo senso, trovare. Ma da questo punto di vista, ribadisco, fare la differenziata ci aiuta a risparmiare. I risparmi dell'ente non sono risparmi del sindaco. Non sono risparmi dei dipendenti, sono risparmi dei cittadini. Perché li andiamo tutti quanti a togliere dal monte dei costi. La questione del randaggismo. Noi registriamo due tipi di problemi. Il primo problema è stato che il canile comunale Aria Rossano è stato posto sotto sequestro. Il secondo problema è che una serie di accordi precedenti sono scaduti. E quindi in questo momento è in corso, per esempio, una manifestazione dell'ERES, una procedura per acquisire ulteriori accordi per poter ospitare, come dire, i randaggi che si vanno a prendere dal territorio. Nello stesso tempo sta per finire, speriamo, la custodia giudiziaria del canile comunale dell'area Rossano, che è il canile comunale della città, per il quale abbiamo già stanziato dei fondi per aumentare la capienza del canile sanitario, perché molto spesso noi abbiamo un collo di bottiglia nel canile sanitario, è chiaro che nel momento in cui noi attiviamo questi due percorsi poi si riesce a gestire molto meglio il fenomeno, anche con la reimmissione sul territorio, con lo smembramento dei branchi, prendendo, come dire, prendendo gli esemplari femmini, insomma, in questo momento noi spesso siamo stati quasi in possibilità di agire da queste due circostanze. C'è il problema, abbiamo tantissime segnalazioni, speriamo con questi due interventi e poi ovviamente con grande lavoro dei volontari, perché c'è un grande lavoro, guardate, che siano visibili o invisibili, c'è un grande lavoro da parte dei volontari, a cui spesso noi non siamo riusciti a dare le risposte che avremmo voluto, proprio a causa di questo deficit infrastrutturale, e che speriamo in questo momento con il termine della custodia giudiziaria, perché ovviamente, come dire, la custodia giudiziaria ci dà dei limiti di gestione, ma con l'apertura di altri canali, perché comunque abbiamo un territorio molto ampio, speriamo in questo modo di riuscire a dare delle risposte migliori. Sappiamo che il problema c'è, ci stiamo lavorando, anche perché queste procedure dovrebbero essere quasi al termine. Sindaco, prima della questione sanità, un passaggio, lei faceva riferimento all'argomento Tari, noi abbiamo raccolto, dandone notizia, il parere favorevole di alcune associazioni di categoria, cito fra tutti la Conf Consumatori, di Corigliano Rossano, nel vedere accolte da parte dell'amministrazione comunale le istanze di rateizzazione. Vogliamo dire anche un passaggio su questo, perché è un'informazione anche utile alla cittadinanza? Sì, guardate, questa fase di pandemia, in realtà insieme all'assessore Palermo, noi devo dire la verità, le stiamo pensando tutte per cercare di, ovviamente nei limiti che ci concede la legge, e nei limiti di una gestione economica finanziaria dell'ente che deve avere criterio. Però all'interno di questi limiti noi ce le stiamo immaginando tutti. In primis abbiamo utilizzato una parte dei fondi che avevamo recuperato per equiparare l'estensione dei due centri storici, perché noi ovviamente abbiamo ereditato come prima amministrazione della città unica una serie di cose ancora separate. Gli uffici separati, i cantieri di rifiuti sono ancora separati. sui rifiuti c'è un problema dello spazzamento sull'area corigliano, che deriva fuori dal vecchio capitolato d'appalto che abbiamo ereditato, che vedremo di recuperare nel capitolato che faremo noi, perché su Corigliano c'è soprattutto un problema di spazzamento, è stata fatta una scelta all'epoca, probabilmente vanno individuate gli ulteriori fondi, però dal punto di vista dello spazzamento il servizio su Corigliano deve assolutamente migliorare sull'area di Corigliano. Abbiamo ereditato un po' di cose divise, tra queste c'era un centro storico al quale era riconosciuto un'estensione, un altro centro storico al quale non era riconosciuto un'estensione, siamo intervenuti subito dopo la prima ondata su questa cosa, siamo intervenuti sul rimandare per quando c'era la prima ondata, la prima ondata di Covid intendo, tutta una serie di tributi e l'ultima volta siamo intervenuti, credo qualche giorno fa, una settimana fa, abbiamo ulteriormente rimandato il pagamento anche dell'Atari, non voglio sbagliarmi perché poi si fanno tante cose, a volte si può essere anche precisi, mi pare che l'abbiamo rimandata a gennaio. Ovviamente sarebbe volontà dell'amministrazione quella di, soprattutto in una fase così difficile, così delicata per la città, per la regione, ma penso per l'intero paese, la volontà dell'amministrazione comunale sarebbe quella di agevolare ancora di più i nostri concittadini. Noi ci proviamo in tutti i modi, tutto quello che riusciamo a fare noi in questo momento lo stiamo facendo, faccio alcuni esempi, prima che uscissero dei provvedimenti governativi ne eravamo gente venuti sulla TOSAP per cercare di agevolare un po' i commercianti in vista della stagione estiva, per cui insomma, noi tutto quello che può fare l'amministrazione comunale assolutamente lo sta facendo, ovviamente all'interno di una gestione, ripeto, razionale delle casse dell'ente. Sindaco, questione sanità, giovedì scorso è andato in scena, io cito testualmente alcune sue dichiarazioni, un'altra Calabria, distante, lei riportava testualmente in un comunicato, mi corregga se sbaglia, da imbarazzi televisivi di inchieste giudiziarie, il dato è che la terza città della Calabria è stata rappresentata attraverso appunto la figura del sindaco, assieme ai sindaci delle città capoluoghi, quindi Crotone, Catanzaro, Reggio, Vibo e Cosenza, in rappresentanza di oltre circa un 400 primi cittadini di altrettanti comuni calabressi, al cospetto del Presidente del Consiglio Chigi. Avete fatto presente qual è la situazione della sanità, qual è la situazione del commissariamento, ormai divenuta una vicenda a livello nazionale, della quale un po' così occupano tutte le croniche nazionali, non in termini purtroppo felici. Vuole dare un ulteriore approfondimento di quello che è stato l'esito di questa riunione e soprattutto cosa adesso i sindaci si aspettano all'indomani di questo importante incontro istituzionale? Ma sì, intanto ci sono delle cose che avranno effetti nel futuro e di cui magari la comunità giustamente adesso non avverte gli effetti positivi. L'istituzione della conferenza dei sindaci della provincia di Cosenza è un passo importante, l'ha fatta la città di Corigliano Rossano. Io ho avuto la possibilità di far parte della delegazione che ha parlato col Presidente del Consiglio perché sono il Presidente della conferenza dei sindaci. L'ho convocata, l'ho presieduta, sono stato eletto da parte dei colleghi come Presidente della conferenza dei sindaci che è un organo riconosciuto da più di dieci anni, che fa parte di una legge regionale, che non era stato però mai utilizzato e che ha potere di consultazione, deve essere consultato per quanto riguarda i documenti programmatori dell'azienda sanitaria e della sanità regionale. In passato sono stati effettuati tutti i vari passaggi, posso fare un elenco infinito di passaggi in cui le aziende sanitarie e la sanità regionale ha fatto degli interventi anche importanti, penso all'accorpamento delle ASL, penso alla chiusura dei 18 ospedali all'epoca del commissario Scopelliti, penso a tutta una serie di passaggi cruciali della nostra regione in termini di sanità, i cui danni paghiamo oggi sulla pelle dei nostri concittadini sono stati fatti senza l'utilizzo di questi istituti riconosciuti per legge. E io penso che questo sia una cosa importante. L'altro passaggio che mi sono ripromesso di fare e che ho intenzione di sottoporre al nuovo commissario che sarà è quello della convocazione della conferenza della programmazione sociosanitaria della regione Calabria, in cui partecipano i presidenti delle conferenze dei sindaci, che da quando è stata istituita, credo 14 anni, non è mai stata convocata. E io questo l'ho detto con chiarezza al presidente del Consiglio e al ministro Speranza. Manca la volontà di coinvolgere i territori, si fanno scelte unilaterali, se fossero giuste ci starebbe anche bene, mi pare che lo stato in cui abbiamo oggi la nostra sanità dimostra che sono scelte sbagliate. Allora è il momento di cominciare a utilizzargli questi organi democratici di rappresentanza. E in questo Corigliano Rossano è stata in prima fila nell'istituzione della conferenza dei sindaci, è stata in prima fila a rappresentare proprio la conferenza dei sindaci in un momento particolare, delicato, per la sanità regionale a Palazzo Chigi, col presidente del Consiglio e col ministro Speranza. E questo è un primo dato che i nostri concittadini spero debbano cogliere, è un dato molto importante, magari molto meno visibile di altre cose, ma molto importante. Dopodiché, quello che ho scritto è vero, in un momento in cui tutta l'attenzione mediatica della nazione si è concentrata su Cotticelli, su Zuccatelli, su Gaudio, sul reparto vuoto, sul finanziamento che non ha dato a un buon vino, eccetera, eccetera, in cui, guarda caso, sono arrivate anche delle inchieste giudiziarie importanti che hanno nuovamente portato la Calabria al, purtroppo, agli onori della cronaca negativa, penso che sia stata data una dimostrazione che la Calabria è anche un'altra cosa, la Calabria è anche di sindaci che combattono a mani nude contro le emergenze quotidiane, non solo quella del Covid, contro l'affatiscenza delle infrastrutture, la mancanza di reti viarie, contro la mancanza di collegamenti, reti ferroviarie, contro una serie di servizi, contro l'assenza di trasferimenti da parte dello Stato, è stata una delle cose che abbiamo sottolineato con forza, devo dire, anche insieme ai sindaci di Capoluogo, a quel tavolo e poi vado a specificarlo meglio. Insomma, un'altra Calabria, la Calabria non degli imbarazzi televisivi, appunto, delle inchieste giudiziarie e io sono felice che ci sia stata molta attenzione per quella manifestazione, credo la prima volta nella storia che i sindaci calabresi manifestano tutti insieme, al di là degli schieramenti politici, al di là delle divisioni territoriali, dopodiché gli esiti dell'incontro. Noi abbiamo chiesto con chiarezza pochissime cose al Presidente del Consiglio e al Ministro, però cose fondamentali. In primis il decreto Calabria prevede che il commissariamento durerà altri tre anni, è troppo. Noi non vogliamo altri tre anni di commissariamento. Capiamo che in pandemia e senza un Presidente regionale eletto, perché al momento abbiamo i facenti funzioni, sarebbe inopportuno chiudere e troncare in questo momento il commissariamento. Ma fra qualche mese, io mi auguro che usciremo dalla pandemia e ovviamente avremo un governo eletto. Di qualsiasi colore, non mi importa, la sanità regionale deve tornare nelle mani delle istituzioni elette, quindi nelle mani dei calabresi che si devono assumere responsabilità. Coloro che sono eletti si devono assumere la responsabilità in calado di gestire anche la sanità, perché anche questo rimpallino fra il Presidente di turno, il commissario di turno e il subcommissario e l'assessore alla sanità e il dirigente del Dipartimento Sanità e i commissari delle aziende sanitarie, sta facendo solo ed esclusivamente danni. Noi abbiamo bisogno, anche come sindaci, abbiamo bisogno di un interlocutore, un interlocutore democraticamente eletto, con il quale possiamo dialogare, confrontarci, con il quale possiamo anche scontrarci, però con un, come dire, con un confronto istituzionale. Ed è la prima cosa. La seconda cosa, quando si è insediato il commissariamento c'erano alcune decine di milioni di euro di debiti per la sanità. Questa è la ragione per la quale la sanità è stata commissariata in Calabria. Sono stati chiusi 18 ospedali, fra cui cariate tre bisacce che ci riguardano da vicino, ma posso fare un elenco lunghissimo, abbiamo, secondo il Ministro Speranza a quel tavolo, 160 milioni di euro di debiti. Quindi i debiti sono aumentati, sono stati tagliati i servizi, ma sono aumentati i debiti. Non sono 160 milioni i debiti della sanità calabrese, sono molti di più. Però noi abbiamo chiesto che la sanità deve essere restituite ai calabresi, ma senza la zavorra. Questo è un periodo in cui il governo, anzi a livello continentale, si ragiona sul debito, si ragiona sugli interventi nella pubblica amministrazione, non c'è più quel ragionamento iperliberista in cui non si poteva intervenire in nessun caso. Posso fare degli esempi recentissimi, comune di Napoli e comune di Reggio Calabria, senza il cui intervento statale, dal punto di vista proprio normativo, probabilmente sarebbero stati in dissesto. Questo ragionamento deve essere fatto anche per la sanità regionale, perché la sanità regionale deve ripartire, la devono far ripartire i calabresi, ma se gli diamo una carretta scassata, con tutte e quattro le gomme bucate e senza manco il motore, è un po' difficile farla ripartire. Chiediamo tanto, ma in realtà chiediamo equità. Pro capite un calabrese ha circa 1700 euro di trasferimento da parte dello Stato per quanto riguarda la sanità. Altre regioni hanno 1800, 1900, fino a 2000 euro pro capite. Moltiplicato per il numero dei calabresi stiamo parlando di una differenza che può andare dai 300 ai 400 milioni. Annui, annui. Dateci la possibilità di avere lo stesso riconoscimento pro capite di altri connazionali, di altre regioni e noi quel debito ce lo risaniamo da soli. Non abbiamo neanche chiesto come dire regali. Chiediamo equità dal punto di vista territoriale. Terza cosa che abbiamo chiesto, poi vedremo se ci saranno i risultati ovviamente del decreto Calabria, di queste cose. Terza cosa che abbiamo chiesto, in Calabria ci sono 800 milioni di fondi di edilizia sanitaria non spesi. Primo fra tutti l'ospedale della Sibaritide, poi c'è l'ospedale di Vibo Valenza, poi c'è l'ospedale della Piana di Gioia Tauro e così via. Pratiche che hanno 15, 16, 17 anni, sostanzialmente tutte le attrezzature previste devono essere aggiornate perché sono obsolete. Tutti in Italia abbiamo ammirato con favore il modello Genova, il modello Ponte Morandi. Abbiamo chiesto di dare la possibilità ai sindaci di utilizzare quel modello, di assumersi la responsabilità, che se l'assume il sindaco di Corigliano Rossano, che se l'assume il sindaco di Vibo Valenza, che se l'assume il sindaco di Palme o di Gioia Tauro, la responsabilità, con poteri però speciali, di essere messo nelle condizioni di poter incidere in quel frangente. Se ci riesce, sarà stato bravo il sindaco. Se non ci riesce, vorrei dire che il sindaco non sarà stato bravo e avrà un confronto diretto con chi in quegli ospedali ci deve stare però. Mentre adesso i responsabili stanno oltrove, si curano oltrove, le persone che devono avere questa responsabilità, se hanno la voglia di assumersela, noi come i sindaci, tutti devo dire i sindaci, abbiamo detto che i sindaci hanno la voglia di assumersi le responsabilità perché noi alla fine che sia di responsabilità del sindaco, che non sia di responsabilità del sindaco, su un territorio il sindaco viene sempre tirato in causa. Ed è il bello e il brutto del sindaco. E nella scorsa puntata che la scorsa dell'interrombo lei usava il termine vettore. Esatto, noi siamo i vettori di qualsiasi cosa, ma il bello e il brutto allo stesso tempo di fare il sindaco. Come ci vogliamo assumere le responsabilità? Questi 800 milioni li vogliamo spendere nella nostra regione, vogliamo fare in modo che si diano servizi, anche perché con la scusa degli ospedali nuovi e noi che ci giriamo sono stati smantellati i precedenti e quindi noi vogliamo assumerci la responsabilità e vogliamo anche fare in modo che questi soldi non restino fermi nei bilanci pubblici e invece possono servire anche un po' da dare un po' di fiato alla nostra economia. Anche da questo punto di vista è una follia che in Calabria non si spendono 800 milioni, non stiamo parlando di 800 euro, stiamo parlando di 800 milioni. Queste sono state le cose che abbiamo chiesto. Il Presidente del Consiglio e il Ministro, devo dire, mi sono sembrati abbastanza consapevoli della gravità della situazione, che è oggettivamente grave, considerando che non è stato attorno al piano Covid, considerando che c'erano tutti questi fondi fermi, che poi il meccanismo di fondi fermi è perverso, perché tu meno hai la capacità di spendere e meno ti vengono riconosciuti i fondi. Questo è il grave danno che ci hanno fatto a noi, calabresi in generale, non a noi sindaci, a noi di Corigliano Rossano. Meno spendi e meno ti daranno fondi successivamente. Ecco perché abbiamo chiesto poteri speciali. Dateci la possibilità di dimostrarvi che noi sappiamo spendere i fondi per costruire gli ospedali, per esempio. Ci sono sembrati molto consapevoli, non hanno preso impegni, devo dire la verità, cioè non hanno detto sì, questo lo facciamo. Anche perché oggi il Decreto Calabria è in discussione, in questa fase è in discussione nel Parlamento, noi contiamo che ci siano alcune modifiche, per esempio la questione del coinvolgimento dei sindaci che ci sia messo nel Decreto Calabria, che ci sia un orizzonte temporale inferiore, che ci sia un intervento sul debito, noi questo ce lo aspettiamo, e magari che ci siano anche degli interventi straordinari per quanto riguarda gli ospedali nuovi, che servono alla Calabria, strutture nuove, strutture in cui poi ci sarà anche attrezzatura nuova, che magari cercano di far venire anche del personale più motivato, in delle strutture nuove, in delle strutture all'avanguardia, in delle strutture moderne. Penso comunque in ogni caso che sia stato un passaggio importante, sia per il segnale dato alla nazione, di 400 sindaci, ma anche per il segnale dato al governo, a prescindere dal colore del governo. Guardate che adesso anche noi sindaci ci siamo scocciati di fare i cuscinetti di tutti i casini che si combinano altrove, perché questo lo dobbiamo dire, la questione del commissariamento è stata un casino, è stata mal gestita, l'altro giorno un mio amico mi mandò una prima pagina di un quotidiano regionale, dove c'era scritta una mia dichiarazione sulla prima pagina, Cotticelli si dimetta, mi pare che era un titolone, dovrei trovarlo. Non c'era bisogno mica di aspettare il titolo quinto per capire che c'era qualcosa che non andava, questo è quello che voglio dire, per cui adesso ci siamo anche scocciati di fare sempre da cuscinetti oppure di urlare al vento, la questione è scoppiata dal punto di vista mediatico, adesso proviamo però a risolverla e non ad aspettare che tutto si calmi per lasciare tutto quanto com'è, questo è il messaggio che abbiamo voluto dare, la questione è più profonda di uno scandalo televisivo, una questione molto profonda quella della sanità in Calabria. Sindaco, in piena emergenza pandemica, purtroppo stiamo assistendo ad un'imbennata di contagi anche in provincia di Cosenza e ad un aumento dei casi anche nella nostra città di Corigliano Rossano. Si registra una positiva, questa volta usiamo il termine positiva nel senso più nobile e fecondo del termine, novità, che rappresenta forse l'unica davvero fonte di letizia, di speranza per i cittadini che è quella dell'avvio, finalmente, del processamento dei tamponi presso il laboratorio di vitivologia del Giannettatio di Rossano, un'importante novità affinché possano aggiungere risultati sempre più celeri ed efficaci, quindi a tutela della salute pubblica. Altra novità invece riguardano le polemiche ormai quotidiane, inerenti presunti disagi, presunti disservizi, presunti rischi, ne abbiamo già parlato nella scorsa volta, la situazione di promiscuità legata alla convivenza, se così possiamo dire, all'interno dell'ospedale di Rossano, di reparti, fra virgolette, ordinari per la cura e l'assistenza sanitaria dei cittadini, dei genti per tutti i vari tipi di patologie e quelli invece che riguardano i cittadini affetti da Covid, da coronavirus. Lei ha risposto anche in maniera piuttosto piccata, anche a numerose dichiarazioni dell'opposizione dell'ultima ora. Può commentarci entrambi questi due aspetti, che abbiamo definito in maniera forse impropria, ma per rendere, diciamo, più di facile comprensione, quell'aspetto positivo e questo aspetto negativo della questione. Cosa sta accadendo? Ma sta accadendo, così come ho avuto modo di scrivere, penso con chiarezza ieri, che una sanità in emergenza senza Covid affronta una pandemia mondiale. Affrontando una pandemia mondiale sicuramente non ci possiamo aspettare che una sanità che è già in emergenza abbia, come dire, purtroppo, devo dire purtroppo, non posso, per noi non possiamo rifugire alla realtà, che abbia le risposte a tutto immediate. Questa questione è il laboratorio tamponi, una richiesta fatta da me ad aprile, perché ad aprile io avviai lo slogan, tristissimo, oggi zero tamponi. Al posto di zero contagi, aprile, maggio, non ricordo, erano giorni concitati, al posto dello slogan positivo di zero contagi avviai questo slogan polemico con l'organizzazione sanitaria della provincia in particolare, zero tamponi, perché non arrivavano mai i risultati di questi tamponi, addirittura non si processavano, perché erano, si facevano tanti tamponi, nessuno li processava, questi tamponi restavano lì, addirittura poi c'è stata quella questione di questi tamponi che sembravano essere messi in un frigorifero, insomma, anche all'epoca ci fu un po' di cacciara mediatica. Una richiesta fatta ad aprile, devo dire, era stata accolta già a maggio, era stato avviato l'acquisto della macchina, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, per fare dei lavori di regolamento di uno spazio dove installare questa macchina. Cinque mesi, cinque mesi che sono troppi, sono tantissimi, perché esattamente come per tutto il resto l'organizzazione sanitaria regionale pensava che la questione Covid fosse finita e che si potesse utilizzare la questione Covid per spendere qualche soldo e fare favore agli amici. Scusatemi se lo dico, come dire, con chiarezza, ma è così, perché nessuno pensava che sarebbe arrivata la seconda ondata con la violenza con la quale è arrivata, per cui non si sono fatti i lavori nei pronto soccorso. Non nel pronto soccorso del plesso ospedaliero di Rossano, nel pronto soccorso dei nostri due plesso ospedalieri, che devono essere messi in sicurezza. Nei pronto soccorso dei plesso ospedalieri dello Spoc Paola-Cetravo, nei pronto soccorsi di Paola, di Iacri, nei pronto soccorsi di San Giovanni, nelle varie RSA e anche probabilmente in quello di Trebisacce, previsti nelle richieste dell'azienda sanitaria, perché noi sindaci li abbiamo chiesti, mai realizzati. Non sono stati realizzati i lavori dei tamponi, non è stato realizzato un presidio ospedaliero che potesse ospitare completamente dedicato il famoso Covid hospital della regione, non è stato assolutamente realizzato, non sono stati ampliati la possibilità di avere degli altri reparti, per cui si arriva purtroppo per responsabilità precise. Ecco, questa è una cosa gravissima che deve essere posta in evidenza. Con responsabilità precise dell'organizzazione sanitaria e della governo sanitaria, si arriva con 40, 50, 30 ambulanze in fila al pronto soccorso dell'annunziata con nostri conterranei, spesso nostri concittadini, spesso positivi o sospetti positivi che non sanno dove essere ricoverati per ricevere delle cure. Per cui era stato fatto un lavoro nel plesso del Giannettasio, così come era stato fatto un lavoro nel plesso di Rogliano dell'azienda ospedaliera di Cosenza e in una pandemia mondiale, in cui c'è grandissima difficoltà nel trovare posti di direggenza, si utilizzano questi posti. Attenzione, che il plesso ospedaliero di Rossano ha un percorso d'ingresso, ha una TAC dedicata, oggi ha anche un laboratorio di tamponi, per quanto riguarda coloro che arrivano per essere ricoverati nel reparto. È un numero limitato di ricoveri, purtroppo altri so che ne stanno facendo altrove, hanno chiesto anche di ampliarlo, io sono stato contrario perché ritengo che ampliarlo significhi intaccare l'attività degli altri reparti, perché poi quello che manca in realtà i nostri concittadini lo devono sapere, non è che manca a Corigliano Rossano, quello che manca in Calabria è il personale, per cui per ogni posto letto che devono trovare non sanno qual è, che devono realizzare non sanno dove prendere il personale. Io avevo richiesto un gruppo di pneumologi, me l'hanno mandato, una parte è rimasta, un'altra parte è andata a dar manforte ad altri medici, eccetera, perché siamo in emergenza e bisogna anche aiutarsi, il vero problema è la gestione di tutti gli altri casi che invece arrivano al pronto soccorso, che arrivano negli altri reparti, di tutti i plessi ospedalieri, quindi il plesso spedaliero di Rossano e il plesso spedaliero di Corigliano. Speculare su una cosa del genere onestamente io lo trovo piuttosto imbarazzante, evito di tornare su una cosa su cui ho già scritto ieri, sicuramente ci sono, come dire, delle criticità, io ho chiesto anche oggi nuovamente all'azienda sanitaria di incidere nelle criticità del pronto soccorso, di incidere nelle criticità delle variarie, di mandare un ulteriore personale, ovviamente lo chiedo io, lo chiedono anche gli altri sindaci di tutti gli altri plessi ospedalieri, la verità, la verità vera che mi sento dire oggi è che l'azienda sanitaria della provincia di Cosenza deve assumere, deve assumere, questo è il punto. Abbiamo avuto per lungo tempo un'azienda sanitaria bloccata perché mancava il piano del fabbisogno, come conferenza dei sindaci noi abbiamo affrontato la questione del fabbisogno del personale all'azienda sanitaria di Cosenza, torno al discorso di prima, adesso il piano del fabbisogno c'è, prevede per esempio per Corigliano Rossano, molti medici, molti infermieri, molti ausiliari, adesso in emergenza è il momento di assumere, di assumere medici, di assumere infermieri, di assumere ausiliari, a tempo indeterminato, perché fino adesso, così i nostri concittadini capiscono che cosa succede, fino adesso senza piano del fabbisogno l'azienda sanitaria ha assunto, la nostra azienda sanitaria ha assunto a tempo determinato, siccome c'è una carenza di medici dappertutto, da Aosta a Siracusa, un qualsiasi medico che si vede proporre un contratto a tempo determinato nella difficilissima provincia di Cosenza, o un contratto a tempo indeterminato in qualsiasi altra parte, comprese altre province della Calabria, va a lavorare in altre province della Calabria, e da qui noi non è che abbiamo soltanto il problema del Covid, abbiamo il problema dei pediatri, abbiamo il problema degli anestesisti, abbiamo il problema dei ginecologi, abbiamo il problema dei medici di pronto soccorso e così via, l'azienda sanitaria deve assumere, questo è il vero problema, devono essere messi in sicurezza i pronto soccorso, fortuna che finalmente dopo tantissime pressioni si è attivato questo laboratorio, perché noi oggi non abbiamo più i sette giorni di ritardo, una delle grandi cause di contagio nella provincia di Cosenza, anche nella nostra città è stato che i risultati dei tamponi sono arrivati dopo sette giorni, non si sono riusciti a tracciare, quindi in questo momento, così come scrivo spesso, il virus circola. Adesso abbiamo il laboratorio dei tamponi, ci sono difficoltà di personale anche lì, che spero si risolvano, ma al momento il laboratorio funziona, tratta 200-300 tamponi al giorno e questo sta consentendo al Dipartimento Prevenzione dell'area territoriale dell'Oionio piano piano a ritracciare tutti i vari contagi, ma abbiamo da scontare quei sette, otto, dieci di ritardo di quel periodo in cui purtroppo, ricominciate a scrivere, siamo di nuovo tornati alla fase zero tamponi e non zero contagi. Sindaco, concludiamo questa nostra chiacchierata, visto che ormai si proterà circa un'ora e io vorrei concluderla con un messaggio da parte dell'amministrazione comunale di tutto altro genere. abbiamo affrontato la questione sanità, rifiuti, disagi, trasporti, randaggi e via discorrendo. Un messaggio inerente alla cultura e il sociale. Perché? L'abbiamo sottolineato più volte, una città può parlare di ordinarie manutenzioni, di servizi per quanto importanti, però non è una città degna di questo nome se non porta avanti delle politiche di promozione culturale e sociale. E notizia di queste ore, nella ricorrenza odierna del 25 novembre, giornata per l'eliminazione contro ogni forma di violenza di genere, in particolare contro la violenza sulle donne, anche l'impegno dell'amministrazione comunale che ha aderito a questa campagna tesa a illuminare in rosa i monumenti, a sensibilizzare le coscienze collettive su questo triste fenomeno. Purtroppo anche nella nostra città continuano a registrarsi numerosi, casi anche di cronaca, che vede soprattutto le donne vittime di violenze di ogni genere, sia verbali, fisiche, psicologiche. Ricordiamo che noi siamo la città dove nel 2013 si è consumato un efferato delitto, un fatto che ancora oggi destra scalpore per la sua atrocità, l'omicidio di Fabiana Luzzi, alla cui famiglia noi rivolgiamo come sempre un sincero saluto e un caro abbraccio. Ecco, qual è l'importanza nella ricorrenza del genere da parte dell'amministrazione comunale, quella di sensibilizzare l'opinione pubblica su un tema appunto così delicato? Cosa può fare ogni cittadino, ognuno di noi, a prescindere da quello appunto che è il ruolo dell'ente pubblico, nel migliorare questo stato di cose, nel mettere la parola fine a questa piaga che non è degna di un paese civile? Ma guardate, effettivamente questo fenomeno purtroppo è stato vissuto direttamente dalla nostra città. È stata anche questa occasione di discussione ultimamente, nel corso per esempio delle discussioni che si stanno facendo col terzo settore. C'è bisogno di far uscire dal silenzio delle proprie case, molto spesso, di entrare anzi all'interno delle case per cercare di dischiudere quelle chiusure, quei silenzi che purtroppo molto spesso nascondono questo tipo di fenomeno. Questo non è un fatto semplice, però la cittadinanza deve sapere che come amministrazione comunale siamo assolutamente disponibili, stiamo mettendo in campo tutte le risorse che abbiamo, adesso stiamo cercando di attivare anche ulteriori servizi attraverso proprio l'assunzione di nuovo personale che possa ulteriormente supportare. Abbiamo una discussione aperta con le organizzazioni del settore, certo c'è ancora tanto da fare, anche in questa fase di pandemia abbiamo avuto problemi, perché il fatto della pandemia è inciso anche per esempio sull'andare ad ascoltare, sull'andare a supportare. Spesso ci siamo trovati il problema di come garantire quei servizi che per noi sono essenziali di supporto alle persone, alle donne, di supporto anche a quei casi che sono già riconosciuti e che quindi seguono, seguono i servizi sociali, seguono le associazioni, seguono tutto il mondo che ruota intorno a questo argomento, abbiamo avuto la difficoltà di riuscire a continuare con i servizi essenziali, col distanziamento sociale. i nostri concittadini, le nostre concittadine devono sapere che l'amministrazione comunale è sensibilissima a questa cosa, abbiamo un assessore che è estremamente sensibile a questa cosa, molto sensibile a questa cosa, mi sollecita spesso, non che io ne abbia bisogno, ma magari ovviamente trattando mille cose, mi ha sollecitato spesso nell'istituire un ufficio, purtroppo abbiamo questi concorsi bloccati dal Covid, ma abbiamo inserito delle figure che possono rafforzare anche i servizi sociali, non a caso, i nostri concittadini devono sapere che hanno delle orecchie, hanno la porta sempre aperta nell'amministrazione comunale e nel comune per quanto riguarda questo tipo di problematiche. La cosa importante è che bisogna riuscire a rompere la paura, perché non è una cosa normale, purtroppo molto spesso dalle nostre parti le cose anormali diventano normali, anche questo, anche quello di subire delle violenze purtroppo alle volte diventa come un retaggio di normalità ed è assolutamente anormale, questa è la cosa di cui si devono convincere le nostre concittadine che dovessero subire questo tipo di violenza e questo è un messaggio che dobbiamo far arrivare forte, non è semplice, però noi ce la metteremo tutta anche in questo. Allora noi ringraziamo il sindaco di Corigliano Rossano, ingegnere Flavio Stasi per aver accettato appunto questo nostro invito e questo incontro confronto con la cittadinanza che riteniamo sia utile. Naturalmente penso che riusciremo a rivederci di qui a breve per proseguire questa campagna informativa su quelle che sono le problematiche della cittadinanza e le tematiche di attualità a livello cittadino e comprensoriale. Grazie allora nuovamente al sindaco e grazie a tutti voi per averci seguito. Grazie a tutti. Grazie a tutti.